ma che cosa che c'hai un nastrone c'hai tutto fermo qua complimenti per la lonza allora vai più gente attenzione attenzione ruota 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 occhio basta basta attenzione ruota tutto niente 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 si ecco lo sapevo senza fermarli più su più su più su bravo mi raccomando il femmino tenetelo eh 40 gradi a più voi pronte? pronte con le chiariche mani mani su 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 questa è una canzone questa non la saranno solo loro so 3 2 1 viello ritmo e 4 e 3 e 4 e 4 e 4 e 5 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 e 6 No! Tutti sono? Tutti! Tutti! Grazie! Veramente intanto che l'accogliate con un grande applauso queste ragazze perché sono veramente bravi! Sì, io ne so, potete avrete capito! Allora... Molto bene, certo? No, no, edo non vale, eh? Cicciu! bravo lascia la sigla lascia la sigla bravo guarda lei fantastica numero 17 no 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 perché stai lungo siamo perchè perchè non 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 ma dovete vieni 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 Ehi, ehi, oh! Oh, tutti ciechi, tutti ciechi, tutti i uomini. I uomini come una forca, Diego. Ciechi, come un uomini. Era solo, c'era. Su, su, su. Un attimo. Solo qui, 65. Ragazzi, occhio qui, eh. Mi raccomando. Ok? Go without return. 3, 2, 1, and then do it up! Proviamo di qua! Proviamo nel mezzo! Alla destra! Ok, qua, Diego, qui. Non veramente tanta energia. Mani su tutti! Peppeloni! Su, su, su! Tu guarda le mani e spara dove voi due. Scegli tu, non ci sono, guarda dove due. Qua, qua. Tira da su però, su! Bravo! Molto bene! Porta in giro, per Roma. I biglietti li fanno a bordo? I biglietti li fanno sopra? Ma, scari, fantastico! Fantastico! Bravo! Mama, hey, ho avuto un balcone a Chiamano! Zeb neighbourhoodiamo! Ciao! 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 Grazie.